E' scappata di casa senza vestiti, mentre lui la inseguiva con un bastone. Allora lei ha chiesto aiuto alla mamma, che ha chiamato subito la polizia. Lei è la fidanzata del rapper romano Algero Corretini, 1727 World Star, quello di Ho preso il muro, fratelli. Peccato che il muro per lui adesso è quello del carcere e si alza sempre di più.